Caro signor Trump, grazie mille per l'invito, ma dobbiamo rifiutare. Questo perché dobbiamo dimostrare al mondo che si possono fare grandi cose partendo da Napoli, ma soprattutto restando a Napoli. E questo è stato un po' il fil rouge che ha portato Marinella in tutti questi anni. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia a regola d'arte. Nuova puntata di Al dente e per chi ci guarda vedete che c'è anche una novità, una scenografia nuova. Oggi parleremo di moda, parleremo di tessuti, parleremo di un'altra azienda che ha più di 100 anni di storia ed è un piacere avere qui in rappresentanza dell'azienda Alessandro Marinella. Grazie, grazie per avermi invitato. Oggi siamo forse nella casa del Made in Italy, come possiamo vedere un po' dallo sfondo. Esordiamo con una nuova scenografia proprio con te. Bene, quindi grande emozione. Esatto, orgoglioso anche di questa cosa, no, a parte gli scherzi. Orgogliosi noi di avervi qui perché continuiamo ad ospitare tantissimi rappresentanti del Made in Italy, tantissime aziende ed è insomma bello oggi concentrarci un po' su tutto il mondo che è Marinella. Come vedi io ho indossato, anzi dimmi tu, questo... Sei stato un vigliacco, non volevi farmi vedere il nodo della cravatta. Della cravatta, ho indossato un dolce vita o un lupetto, questo cos'è? Questo è un dolce vita, un dolce vita. È un dolce vita, diamo la definizione perché è al risvolto. È al risvolto, altrimenti sarebbe il lupetto. Il lupetto è quello che finisce qua, va bene. Per chi ci guarda abbiamo fatto questo cappello introduttivo. Va bene, ci racconti un po' come nasce Marinella e qualche ricordo legato agli inizi, soprattutto a quello che ti hanno raccontato e che sai, perché sappiamo che è una generazione che parte, la storia parte ufficialmente nel 1914. 1914, 109 anni fa, fra poco 110. Chiaramente, come hai detto tu, non li ho vissuti io, ma sono cresciuto con questa storia, con la nascita nel 1914 del mio bisnonno, Eugenio, che all'epoca, nel 1900, agli inizi degli anni 10 appunto, l'uomo elegante vestiva l'inglese, la donna elegante vestiva la francese. Immaginate un mondo dove non c'è internet, non c'è digitalizzazione. Lui decise come posso fare a importare questi articoli inglesi dall'Italia, cioè dall'Inghilterra al sud Italia. Prese la nave, non c'erano aerei. Vado lì. Vado lì, un mese di nave. Incontra lì dei fornitori e comincia a importare questi primi articoli inglesi a Napoli. E dà subito un successo. Apre questa bottega di 20 metri quadri a Piazza Vittoria, perché non è mai stato a Napoli, è proprio di fronte il mare. Esattamente a fianco alla villa all'epoca Royal, perché chiaramente era la villa reale. Adesso è chiaramente la villa comunale. Esatto, quindi siamo, dicevo, in una zona centrale, comunque importante. Assolutamente sì. E da lì divenne subito un successo, poiché strategia da economista first mover, quindi in un oceano blu non popolato, si è il primo squalo a insediare in questo oceano. E il primo a importare questi articoli è subito un successo, tant'è che la nota giornalista Matilde Serrao, nonché fondatrice del Mattino, definì subito il negozio come una farmacia di paese. Perché all'epoca la farmacia di paese era il luogo dove si riunivano tutti i notabili del paese per decidere il destino e le sorti di quest'ultimo. Pensa. E quindi, diciamo, così nasce Marinella, questo connubio fra Angleterra e Italia. Esatto, e siamo ai inizi 1900. Esattamente. Ma tu sai, insomma, questa attrazione verso comunque i tessuti e verso questo mondo? Cioè, cosa ti hanno raccontato? Allora, diciamo che io sono chiaramente cresciuto in mezzo ai tessuti, ai colori. Tant'è che, mi ricordo quando ho fatto la comunione, giocammo al secondo piano del negozio a Rubba Bandiera, dove le bandiere erano dei tessuti di seta. Quindi, bellissimo. È stato un mondo da cui io ho recepito tanto. Sto cercando di dare tanto. È un mondo difficile, adesso è un continuo cambiamento. Ma chiaramente è stato il mondo dove ha vissuto il mio bisnonno, mio nonno, mio padre e non solo seta. Tant'è che, racconto questo aneddoto simpatico, prima il mio bisnonno aveva un... Eugenio, prima di creare il negozio, creò questa sartoria insieme a altri due soci. E creò quindi questa società. Successivamente litigarono. E lui da quel giorno decise quindi di aprire il negozio, essendo lui l'unico proprietario. E da quel giorno in tasca della giacca metteva sempre tre fagioli. Quando qualcuno gli andava a proporre una nuova società, lui metteva la mano in tasca. Toccava questi tre fagioli, perché in napoletano fagiolo si dice fasul, che significa anche fa solo. E quindi lui diceva di no e creava poi le cose da solo. Ma esiste ancora la prima bottega di cui parli? Come si è trasformata negli anni? Allora, è rimasta storica. Adesso per quelli che magari davvero ascoltano la puntata e poi passano da Napoli. Allora, diciamo che la bottega storica è rimasta invariata. L'unica cosa che realmente è cambiata è il colore della tenda, perché inizialmente la tenda storica nel 1914 era verde inglese. Successivamente divenne blu. E il blu marinella è stato poi quel pantone che ci ha contraddistinto negli anni. Che è quello che indossi. In verità no. In verità no, è leggermente più chiaro. Più chiaro. Poi devi sapere, racconto anche questa cosa. Certo. Tutti noi marinella... Tu sentiti libero, il microfono è tuo, io ho solo il compito di punzecchiarti, di moderare questa cacchierata. Devi, 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 devi. Ognuno di noi marinella, in questo caso io e mio padre, ma lo stesso modo il mio bisnonno e mio nonno, indossiamo sempre cravate difettate. Con dei piccoli difetti. Ci sono dei motivi, per esempio questa porta queste striature. Ok. Per, diciamo, un cittadino medio è impossibile da trovare l'imperfezione. Allora, no, sì, diciamo che siamo molto attenti a questa cosa, ma ci sono varie scuole di pensiero. Ad esempio mio nonno indossava queste cravate non vendibili poiché, diceva, il cliente che entra non acquisterebbe mai la cravatta che indosso. Invece, ad esempio, mio padre, dato che molti vogliono acquistare la cravatta che lui indossa, indossa una cravatta difettata in modo da poter dire in maniera gentile e non poterla vendere. Che bello questo retroscena che c'è dietro, insomma, che ha degli oggetti. E io ho portato una con un difetto basso perché così non si vede coperta e faccio bella figura. Sei scaltro. Che persona era Eugenio Marinella? Allora, io chiaramente non ho avuto la fortuna di conoscere il mio bisnonno, ma neanche mio nonno. Dietro un'azienda così, insomma, che nel 1900 è stata così innovativa. Allora, diciamo che chiaramente dai racconti di famiglia è sempre stata una persona illuminata, che ha sempre cercato di portare valore aggiunto innanzitutto al territorio. Tant'è che è riuscito a trasmettere questa forte appartenenza al territorio sia a mio nonno che a mio padre. tant'è che dopo praticamente negli anni 70-80 ricevemmo... Cioè, ricevettero, io non ero ancora nato. Vabbè, il cognome ce l'hai. È vero, è vero, è vero. Ricevettero una lettera da un certo signor Donald Trump. Donald Trump che all'epoca non era chiaramente diventato presidente degli Stati Uniti, era un grande imprenditore americano, aveva comprato vari palazzi, con scritto «Gentili signori Marinella, vorrei offrirvi un negozio completamente gratuito all'ultimo piano della mia Trump Tower». E lì? Considera lì un piccolo negozio a Napoli, andare a New York così lontano, e mio nonno disse a mio padre «Dobbiamo rispondere», quindi rispondendo «Caro signor Trump, grazie mille per l'invito, ma dobbiamo rifiutare. Questo perché dobbiamo dimostrare al mondo che si possono fare grandi cose partendo da Napoli, ma soprattutto restando a Napoli». E questo è stato un po' il fil rouge che ha portato Marinella in tutti questi anni. Perché la bottega che esiste ancora è a Napoli e adesso parlavi di questa lettera del 1970, più o meno, sì, certo. C'era ancora quella bottega lì, punto. Assolutamente, c'è ancora tutt'oggi quella bottega lì, tant'è che riporta ancora delle scritte in ottone storiche, quello che considera che il mio bisnonno quando la creò volle sempre creare questo rapporto tra Italia e Inghilterra. Durante la Seconda Guerra Mondiale non c'erano ottimi rapporti tra i due paesi, tant'è che lo Stato italiano vietò l'utilizzo di nomi inglesi e fuori al negozio c'erano due insegne con scritto shirt maker, cioè creatore di camice e outfitter, che era un termine inglese per dire creatore di outfit. Vennero sequestrate e vennero poi fuse per fare delle armi perché erano appunto in ottone. Adesso abbiamo, ci sono ancora quelle scritte che sono state poi rigenerate dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi è come se fosse un museo. Poi successivamente abbiamo aperto successivi piani, quindi ci siamo allargati. C'è stata un'espansione, adesso ci arriviamo, certo. Ma parlando invece di personaggi illustri, imprenditori, personaggi politici dello spettacolo, io so che poi a un certo punto, adesso ce lo racconti tu, hanno iniziato a girare dentro la bottega marinella e questo quanto ha aiutato poi nel fare passaparola, pubblicità, comunicazione e poi espansione. Tantissimo. Diciamo che tutto è iniziato quando Totò, il famoso Totò, veniva in negozio a fare lezioni di nodo del pavillon. Pazzesco. Prendere lezioni da Totò di nodo del pavillon. Per il nostro pubblico che la maggior parte credo sia giovane, andatevi a vedere i video a questo punto di Totò in generale, film di Totò. Penso anche le nuove generazioni lo conoscano perché... Sì, 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 sì. Per fortuna i papà lo racconteranno. Assolutamente sì, assolutamente sì. No, dicevi perché ci tengo molto a questa chicca. Allora, diciamo che ci sono stati tantissimi, tantissimi personaggi illustri dal mondo dello spettacolo al mondo della politica. Fortunatamente, come dice mio padre, noi siamo riusciti ad arrivare al collo di tantissimi personaggi illustri e notabili del mondo. Tant'è che, ad esempio, De Filippo, noi, avendo la sartoria interna, gli facevamo anche gli indumenti da mettere sotto le... Su misura. Su misura, da mettere sul palco per fare nei vari spettacoli perché lui era molto molto freddoloso. Poi ci sono stati i presidenti, tutti i presidenti dalla famiglia Kennedy, poi quando c'è stato il G7 a Napoli siamo stati fornitori degli accessori, appunto, delle cravate ufficiali a tutti i capi di Stato. Tant'è che abbiamo una teca dove ogni capo di Stato ha le proprie misure, cosa che adesso per la privacy non si potrebbe fare, ma parliamo di tanti anni fa e quindi è una cosa molto molto bella. Siamo stati la cravatta ufficiale di 007. Massima eleganza inglese. Per quello dici proprio che è un museo ormai. È un museo, è un museo, assolutamente. Mi incuriosisci davvero e incuriosisci, secondo me, tutto il nostro pubblico. Bene. La prossima volta che si passa da Napoli a visitarlo. Anche perché non solo si può visitare il negozio, si può visitare anche la sartoria. Avendo la sartoria a 100 metri dal negozio, chiaramente è visitabile e lì si entra proprio nella famosa macchina del tempo di Ciao Darwin. Si entra, lì si vedono una realtà di altri tempi, le sartre lavorare ancora a mano, utilizzando ancora le forme della gravatta come si usava un tempo. Per bloccare diciamo la seta vengono utilizzati dei sassi dipinti a mano, quindi qualcosa di veramente storico. Originale, autentico. Originale. Hai qualche aneddoto anche divertente legato adesso, mi viene in mente Totò che hai citato insomma Napoli poi e il fulcro per quel che riguarda anche insomma la teatralità, la comicità, lo spettacolo. Allora diciamo... Qualche aneddoto anche divertente. Allora non mi viene adesso in mente nessun aneddoto su qualche personaggio specifico. Posso raccontare che quando, mi ricordo la prima volta che sono stato, ho cominciato a fare subito viaggi nei vari paesi dove siamo distribuiti e andai ad Hong Kong. Ad Hong Kong dovevo fare questa intervista con questa traduttrice dal cinese all'italiano che chiaramente non parlo cinese e lei mi chiedeva perché chiaramente all'estero noi italiani siamo vissuti nel mondo della moda abbiamo una capacità innata di saperci vestire, di saper cucinare, di fare queste cose che per noi sono scontate. Sì perché siamo cresciuti in un contesto guardare lo sfondo è una cosa meravigliosa che ci aiuta che ci aiuta invece chiaramente all'estero si cerca di copiare e forse accentuare fin troppo l'italianità e quindi lei venne e disse ho letto che esistono 70 tipi di nodi della cravatta me ne puoi mostrare almeno 20 e ha detto guardi non lo so io adesso me ne preparo 5-6 che chiaramente alla fine ognuno di noi sa fare quei 2-3 nodi a seconda delle occasioni a seconda della lunghezza e la cravatta sai che adesso che l'hai detto ti faccio mi bastoneranno no no adesso ti faccio levare la tua e fare il fiocco dopo verso la fine e quindi insomma questo era un aneddoto interessante poi se ci dovesse essere qualche altro aneddoto ve lo racconto certo certo i prodotti fatti a mano Marinella Made in Italy all'ennesima potenza in che cosa si contraddistinguono rispetto a eventuali competitor fondamentalmente la nostra manifattura è totalmente Made in Italy ma come ti dicevo noi il prodotto finito che possa essere la cravatta o anche tutti gli altri accessori in seta è un connubio fra Made in England e Made in Italy perché noi siamo proprietari di una stamperia in Inghilterra ok lì viene ancora effettuata la stampa a mano che per chi non lo sapesse immaginate la seta come un grande foglio appunto bianco o nero a seconda della catena di colore che si vuole andare a stampare esistono due persone che con un rullo proprio colorato come intriso di colore devono stendere la fantasia sulla seta questa una volta che viene stampata deve essere asciugata per vari mesi viene fatto poi un processo che si chiama finissaggio che dura ulteriori mesi successivamente viene mandata a Napoli tagliata a Napoli e cucita a mano quindi è proprio il non plus ultra del fatto a mano tra Inghilterra e Italia e noi per scelta non siamo mai voluti andare su altri metodi di stampa perché adesso chiaramente ci sono delle stampanti che stampano si chiamano in inkjet ma chiaramente la resa è completamente diversa i colori sono diversi tutta una serie di aspetti non rappresenterebbero poi quel fascino che c'è dietro in questi anni quanto è difficile poi a livello anche di fantasia a livello estetico tenere una qualità altissima e anche poi un gusto estetico molto difficile molto difficile devo dire sono cambiati tanto i gusti nel corso degli anni la moda in generale è sempre ciclica quindi alla fine all'inizio degli anni 30 40 andavano disegni molto molto grandi adesso i disegni si sono rimpiccioliti poi negli anni 2000 adesso stanno tornando i disegni più grandi tant'è che noi abbiamo lanciato qualche anno fa una collezione che si chiama Archivio che riprende le stampe dal 1930 al 1980 quelle ufficiali con lo stesso metodo di stampa con lo stesso metodo di si chiama mother un tipo di colorazione che consiste nel mettere i tessuti per vari mesi in dei cilindri pieni di colore e questo li rende super soffici la grammatura della seta non è 36 once bensì 28 quindi ancora più morbidi ancora più dico un termine che non esiste full a rosi però che rende rende il concetto e devo dire sono andate doveva essere una capsule collection poi è stato un continuativo invece domanda mia curiosità mia ma sono cambiati è cambiata anche la larghezza le misure assolutamente della cravatta considerata standard allora a dire il vero quando nasce la cravatta non nasce così come le cravate che noi concepiamo erano perché tutti indossavano il panciotto la cravatta doveva arrivare a metà petto più corte più corte quindi erano dei grandi full ar ripiegati su se stessi e poi dato un punto di chiusura e quella era la cravatta la cravatta poi successivamente e non aveva un interno quindi da lì poi sono nate le cinque pieghe sette pieghe nove pieghe che poi magari andremo a spiegare ma la cravatta concepita così classica tre pieghe da utilizzo quotidiano è un qualcosa è un concetto che si è sviluppato soltanto successivamente circa secondo te circa negli anni negli anni trenta quaranta ah ok tant'è che noi prima lavoravamo soprattutto solo con gli square di seta non c'erano cravate già pronte e successivamente è stata inserita l'anima all'interno della cravatta perché non tutti sanno che all'interno di una cravatta di seta o di cashmere o quello che sia non tutti sanno che esatto non tutti sanno che ci sono due interni uno di cotone e uno di lana perché quello di lana deve dare la morbidezza alla cravatta e quello di cotone deve far sì che una volta strobeggiata ritorni alla sua forma originale quante cose che stiamo imparando e tu mi chiedevi la larghezza prima chiaramente le cravate erano larghe anche 12 centimetri questa si chiama la pala pala 12 centimetri adesso si è ridotta sempre di più prima c'è stato un trend proprio si utilizzavano delle cravate di 6-5 centimetri proprio piccolissime che vengono comunemente chiamate cravattino noi non le abbiamo mai fatte a meno che qualcuno non ce le chiedesse appositamente ma la cravatta standard nostra adesso è 8 centimetri e mezzo e avete fatto una cravatta beh mi dicevi di sì insomma che create ovviamente accessori non solo su misura ma una cravatta fatta per un personaggio per un motivo particolare allora diciamo chiaramente sì per esempio il presidente berlusconi aveva delle richieste anche molto particolari sia per esempio questo è un bel aneddoto lui mi ricordo quando ero più piccolo ci fu una contrattazione il presidente ordinava decine di migliaia di cravate dell'anno che poi regalava un giro per il mondo e ricordo noi avendo una produzione artigianale non abbiamo queste capacità produttive e c'era una trattativa come glielo diceva a ribasso a ribasso tra lui e mio padre dove lui credeva che doveva aumentare la quantità e mio padre diceva di abbassarla quindi c'era questa cosa che lui credeva 10.000 no facciamone 1.000 e quindi poi alla fine chiusero per 3.000 cravate che mi ricordo tutte le sarte a fare le nottate a lavorare proprio una cosa una cosa bellissima però bellissima grandi soddisfazioni bellissima poi c'era una corrispondenza di lettere perché noi poi tra l'altro abbiamo anche altri brand al di sotto di Marinella soprattutto uno che si chiama Stivaleria Savoia che è ancora più antico di Marinella origini milanesi 1870 che fa calzature su misura gli regalamo regalamo al presidente Berlusconi una scarpa e lui rispose signor Marinella questo è il modo migliore per farmi le scarpe però non inteso come in senso negativo ma lo ricordiamo tutti anche per la simpatia assolutamente e il suo umorismo quanto tempo passa invece dall'ideazione dal disegno alla realizzazione poi invece alla messa sul mercato all'incirca sei mesi sei mesi poiché c'è una fase iniziale dove vengono create chiaramente le fantasie ad oggi digitalmente prima venivano disegnate su un foglio una volta che vengono approvate vengono modificate le colorazioni viene fatta la prova di stampa una prova di stampa in questo caso digitale soltanto per vedere se appunto il pantone sul computer corrisponde a quello poi reale di stampa successivamente una volta approvata la colorazione parte poi la stampa a mano quindi viene fatto il rullo come ti dicevo con ogni singolo elemento ogni rullo ha ad esempio il centro del fiorellino il petalo quindi sono più rulli che devono essere passati più volte sulla stessa fantasia che non si deve muovere neanche di un millimetro esatto perché è una roba poi di simmetria assolutamente assoluta precisione quelle sono gli stampi gli stampi poi possono essere utilizzati solo per un x periodo di tempo perché poi si vanno ad usurare quindi la definizione del disegno non è più così precisa viene fatta la stampa dal momento della stampa devono passare un paio di mesi successivamente viene fatto questo finissaggio che durano altri tre mesi viene mandato poi la stampa definitiva spiego a tutti il finissaggio e un po' io racconto sempre un po' quando le ad esempio le ragazze mettono lo smalto trasparente sopra lo smalto colorato per non far sì che ci sia trasmissione di colore e quindi per proteggere esatto ma soprattutto perché col sudore con tutti gli agenti il sole la cravatta che è sempre a contatto con la camicia potrebbe scambiare il colore quindi viene fatto questo finissaggio arriva a napoli e poi c'è circa un mese di lavorazione lavorazione poi messa ufficialmente sul mercato siete nati principalmente per un pubblico maschile immaginiamo poi la cravatta un accessorio principalmente indossato da noi uomini però so che adesso nel corso degli anni siete riusciti anche a soddisfare un pubblico femminile assolutamente sì diciamo che esistono due versioni quella noiosa da economista e quella invece un po' più ludica vai sceli tu allora vi racconto entrambe allora la nozione da economista è che chiaramente noi fino a qualche anno fa dipendevamo totalmente dalla cravatta quindi eravamo un brand troppo dipendente da un unico prodotto e quindi abbiamo cominciato una diversificazione cercando di dare un'identità a tutti i singoli prodotti utilizzando i nostri know-how quindi l'utilizzo della seta le nostre sarte applicarle per esempio all'interno delle giacche alle camice tutta una serie di prodotti sia da uomo che da donna la chiaramente anche i fular ad esempio tutta una serie di accessori da donna sono poi stati un passo dovuto l'altra versione è che chiaramente gli uomini che venivano a comprare dopo l'ennesia dopo la centesima cravatta e tornavano a casa con la centesima cravatta a mani vuote per la propria moglie abbiamo cominciato a fare articoli da donna così da avere una scusa per tornare a casa grazie bene gli uomini ringraziano in generale giusto insomma specchietto panoramica che hai dato che da una parte anche per un discorso aziendale di numeri abbracciare un mercato più ampio ti do due numeri giusto per capire noi nel 2017 quindi alla fine pochissimi anni fa dipendevamo per l'80% della cravatta questa dipendenza è scesa dall'80 al 60% quindi comunque c'è stata una forte riduzione con un aumento del fatturato di circa il 30-35% totale quindi un bel vendendo ancora più cravate paradossalmente questo perché perché se andiamo a vedere i trend dell'utilizzo della cravatta nel corso degli anni è sicuramente sceso adesso la cravatta con lo smart working si utilizza sempre meno ma è diminuito l'utilizzo della cravatta è vero anche questo è un aspetto che non ci avevo pensato con lo smart working è vero ma è diminuito l'utilizzo della cravatta intesa come uniforme da lavoro se io non se non mi piace vestire in giacca e cravatta devo andare al lavoro vestito in giacca e cravatta per policy aziendale vado in un qualsiasi store di fast fashion ne acquisto 10 da battaglia e le utilizzo chiaramente adesso che non sono più obbligato non lo faccio più le persone che invece amano vestire in giacca e cravatta ma soprattutto per determinati eventi quando comprano quella singola cravatta la vogliono di un certo punto di qualità e quali prodotti invece un uomo che entra nel negozio nella bottega marinella poi porta a casa per la moglie o per la compagna allora sicuramente borse borse vanno per la maggiore full art molto spesso anche accessori come piccola pelletteria portafogli ma anche ad esempio sciarpe scialli cashmere ci sono tanti tanti articoli adesso stiamo cominciando a introdurre qualche articolo anche per la casa ah vedi questo poi è un'altra domanda che volevo farti il fatto che volete rispettare comunque la tradizione il vostro modus operandi nato da insomma all'inizio 1900 innovando allo stesso tempo abbracciando sempre anche un pubblico più ampio quanto è difficile fare questo lavoro allora è la sfida più difficile quando io faccio un esempio molto semplice quando io sono entrato in azienda chiaramente noi abbiamo cercato in corso di tutti questi anni di preservare il marchio in che senso noi abbiamo tanta importanza al contatto diretto col pubblico al rapporto tra noi e il consumatore finale cosa che puoi garantire soltanto se hai dei negozi monomarca quando comincia una distribuzione chiaramente tutto ciò è più difficile poiché hai degli intermediari che chiaramente non sai come trattano chiaramente il cliente come possono seguire la tua polisi aziendale il tuo modus operandi diciamo così siamo corteggiati da tantissimi da tantissimi rivenditori per distribuirci magari in Italia ma soprattutto all'estero abbiamo sempre detto di no ma se noi dicessimo di sì il brand potrebbe esplodere da un giorno all'altro è chiaro che poi andrebbe a perdersi tutti quei valori di cui abbiamo parlato se non quindi la tradizione innovazione la familiarità l'accoglienza del cliente il fatto a mano è chiaro che poi diventerebbe un qualcosa di industriale che non vogliamo non vogliamo che diventi così quindi bisogna innovare fare nuove cose fatte bene con i giusti passi perché poi ma con l'occhio finale esatto anche perché di crescita si muore quindi è importante crescere con i giusti passi e quali sono le tue idee insomma tu da nuova generazione sull'azienda sulla prospettiva futura se vuoi raccontarci anche cosa fai allora assolutamente sì quanto vivi in Apoli e quanto vivi invece poi il mondo per poter portare sempre allora un occhio innovativo diciamo spiego esattamente io cosa mi occupo in azienda io quando sono entrato in azienda dopo i miei studi in economia immaginate fresco ventenne un'azienda che comunque è sempre andato bene ho cercato di e andavi in università non sempre con il cravat non sempre ammetto ammetto me la pulpa ho cercato di portare ciò che avevo studiato comunque e applicarlo in azienda come disse Renzi first reaction shock non non riuscì ad applicare niente perché chiaramente c'erano delle procedure che si erano sviluppate nel tempo non seguendo sempre l'economicità di questi processi e ho cercato di portare innovazione portare innovazione soprattutto nei processi come avveniva un po' tutta la filiera quindi dall'approvvigionamento della merce hai iniziato a studiarla immagino ho iniziato a studiarla ho passato si è partito da lì esatto poi dopo praticamente un paio d'anni quando è che hai iniziato a dire la tua prima posso fare un'osservazione allora dopo dopo 5-6 mesi dopo 5-6 mesi e devo dire all'inizio c'è stato un totale scontro un rapporto difficile inizialmente con mio padre perché chiaramente lui mi diceva di stare al mio posto e di seguire è arrivato esatto esattamente così devi fare la gavetta in napoletano come te l'ha detto eh non mi ricordo però lui non parla molto napoletano quindi questo devo dire scusami ti ho interrotto no no ma anzi anzi successivamente scoppia il covid tutti preoccupatissimi non facciamo niente non ci muoviamo io ho detto no ragazzi questo è il momento di investire allora esausto stanchissimo mio padre disse vabbè Ale mi stai come si dice scocciando da così tanto tempo che vuoi aprire un e-commerce vuoi portare comunque marinella sul digitale fallo fallo carta bianca però forse è stata una fortuna il fatto che tu quando è arrivato il covid fossi già preparato esatto quel livello di istruzione di studio ma diciamo che è stato dico il lato vedere il bicchiere mezzo pieno durante un periodo storico così triste quello del covid riuscire comunque a trovare questa opportunità in un periodo di così si chiama periodo vuca di volatilità eccetera di dubbio poi è di dubbio abbiamo ho trovato da solo mi ricordo andavo a fare questi sopralluogo in questi spazi troviamo questo spazio di mille metri quadri che adesso è diventato faccio questo spoiler di 2200 metri quadri prendo i cinque ragazzi ne ho assunti in azienda li porto lì diciamo ragazzi dobbiamo mettere giù un sito dobbiamo fare questo quest'altro la scaffalatura da picking quale utilizziamo come come gestionale abbiamo creato una mini azienda da zero e in tre anni è arrivato a fare tre milioni e adesso cosa si dice in famiglia adesso adesso si ascolta quello che dico infatti adesso sono un po' su tutti i processi contratto quindi vabbè chiaramente con i fornitori della seta quando deve arrivare la merce come deve essere stoccata come deve essere stampata in che modo deve essere lavorata c'è un grande lavoro c'è un grande lavoro uno non se lo immagina infatti per quello no assolutamente considera per esempio non tutti sanno anzi sempre non tutti sanno che all'interno delle nostre cravate ad esempio è presente un RFID non so se si vede un RFID che adesso è un metodo di identificazione della merce della gran parte dei brand di moda questo RFID è un microchip praticamente che ti dà il passaporto dell'articolo questo sui vostri prodotti sui nostri prodotti no 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 esatto esatto e questo è un po' una carta di identità della cavata esatto e questo vabbè non solo per combattere chiaramente i falsi ma anche per darci una storicità quindi di tutto l'articolo da chi è stato cuscito dove è stato stampato quindi tutto tutto un processo che chiaramente prima non era immaginabile applicato chiaramente anche la blockchain carico e scarico dal gestionale quindi avere i dati esattamente del colore della fantasia adesso si dice che le aziende siano data driven guidate dai dati prima chiaramente non era così quindi mi occupo di questo quanto senti il peso e poi anche il grande onore di far parte insomma di una famiglia che ha dato così tanto all'Italia e possiamo dire insomma al mondo allora come come tutte le cose sono lati positivi e lati negativi chiaramente essere parte quarta generazione di una famiglia storica che è a Napoli che ha fatto tanto che sta facendo tanto e quanto è affascinante è bellissimo io a volte ricevo dei messaggi anche sui social bellissimi che poi mi commuovo e mi danno una carica incredibile perché dico allora vuol dire che qualcosa di bello stiamo facendo ma persone che mi scrivono che i nostri articoli li hanno accompagnati nei momenti più importanti della vita sono stati un elemento ricorrente dal padre al proprio figlio quindi una cosa bellissima dall'altro lato chiaramente una grande responsabilità poiché io appunto come dicevo ho con mio padre 40 anni di differenza lui è stato un grandissimo imprenditore ha trasformato una bottega di 20 metri quadri a Napoli in una vera e propria azienda che sta crescendo che si sta trasformando evolvendo in un periodo storico così difficile e io posso dire di aver vissuto due momenti il primo momento è quando sono entrato in un'azienda dove sentivo noi quando io stavo finendo l'università ricevemmo un'offerta da uno dei gruppi francesi di quelli di quelli importanti un'offerta stratosferica chiaramente non è l'acquisizione sì non è semplice vendere il proprio cognome non è semplice vendere un'emozione e quindi mio padre assolutamente non voleva farlo ma chiaramente delle cifre importanti io spinsi sul rifiutare non è facile perché mi volevo mettere in gioco volevo dimostrare che potevo fare delle cose importanti e far crescere l'azienda mantenendo il vostro nome assolutamente sì quindi rifiutammo e partì subito con questo grande peso sulle spalle che fortunatamente quando si ha un grande peso sulle spalle si può reagire in due modi o ci si o si crolla o si crolla o ci si rimbocca le maniche e si lotta ancora di più io fortunatamente ho avuto la seconda reazione fatto dal 2018 fino forse a questo 2023 in maniera fortissima io penso ti ha aiutato un po' penso anche il lato caratteriale assolutamente sì assolutamente sì e diciamo mi collego sentivo proprio un podcast dove parlava il fondatore di Technogim dove raccontava che ogni uomo è creatore della propria fortuna perché la fortuna è l'incontro tra talento e occasioni chiaramente il talento non c'è bisogno di essere il messi questa me la segno segnatevela anche io no ma è così mi ritrovo è così e quindi io facevo tutto tutto io ormai per questi anni non avevo proprio una vita ormai andavo al lavoro lavoravo dalla mattina alla sera la sera magari venivano dei rappresentanti giapponesi da alcuni amici che dicevano vieni anche tu così li conosci e io ci andavo andavo ogni volta a conoscere persone a fare networking la sera a creare ulteriori occasioni di sviluppo e ho fatto tante 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 ho fatto un networking importantissimo tante opportunità di crescita e devo dire ho combattuto tanto poi che cosa è successo abbiamo ottenuto i risultati abbiamo ottenuto i risultati quest'anno 2023 abbiamo chiuso il bilancio con il record di fatturato di tutti e 110 anni storico record un po' come quando non dico si vince una gara ho avuto poi un calo ho avuto un calo che cosa mi è successo è successo che sono andato in quel famoso burnout mi ricordo noi novembre e dicembre sono per noi il periodo più bello e importante di tutta l'azienda chiaramente non solo per voi assolutamente per tante e io molto spesso mi trovo anche all'università a fare lezioni a parlare in pubblico sono sotto contratto di alcune università mi ricordo stavo facendo questo discorso in pubblico nel mentre avevo mille pensieri mentre stavo parlando pensavo alle cose che dovevo fare calo blocco totale burnout e quindi ho capito che c'è bisogno ma ci vuole anche di sostenibilità nella propria vita trovare quel giusto equilibrio tra vita lavorativa vita privata e dedicarsi i giusti tempi e quindi devo dire che da un lato ho sentito molto forte il peso ho lottato e adesso voglio portare in maniera sostenibile l'azienda avanti in modo organizzato come riesci a gestire la vita privata? non è semplice non è semplice perché poi chiaramente noi avendo un rapporto come si dice volgarmente no non volgarmente tecnicamente B2C cioè diretto col consumatore finale non avendo distributori non avendo io ho un contatto diretto con tutti i dipendenti che lavorano noi con tutti i clienti che vengono nei vari negozi che magari mi possono scrivere anche sul cellulare ricopri credo tre o quattro posizioni che in aziende diciamo ancora più grosse più strutturate sarebbero quattro posizioni quattro ruoli tu li fai tutti assolutamente sì chiaramente la parte gestionale la parte amministrativa la parte di brand ambassador quindi portare al mondo il brand e chiaramente anche la parte commerciale perché quindi come hai detto tu quattro ruoli che sono molto difficili da gestire però quando appunto dicevo quando ricevo poi un messaggio di quelli emozionanti quando poi ho avuto la fortuna di essere premiato per vari premi è un'emozione tipo sono stato premiato come Forbes 30 under 30 quindi i migliori 30 under 30 in Italia quanti anni fa adesso per due anni fa anzi un anno e mezzo fa sei ancora under 30 ancora under 30 28 anni sono uscito in copertina di Forbes ho vinto il premio il premio adesso ultimamente l'Oscar dell'innovazione che viene dato a tutti i ragazzi a livello italiano il premio Angie che è un premio importantissimo abbiamo vinto il premio Leonardo il premio Leonardo che è uno dei premi più importanti della Repubblica Italiana abbiamo ottenuto poste italiane un anno fa ha creato un francobollo perché ogni anno poste italiane crea dei francobolli inediti per delle aziende italiane iconici e quell'anno l'ha fatto a noi e Barilla quindi proprio ho capito e stanno capendo insomma i nostri ascoltatori la forza da dove ti arriva venne addirittura il vice sindaco qualche anno fa a premiarmi con una medaglia al merito per aver portato comunque innovazione giovane nella città di Napoli a proposito di innovazione tutto quello che hai portato tu adesso esiste la bottega storica dove tutto è nato l'e-commerce ma poi altri negozi dislocati assolutamente sì adesso siamo abbiamo praticamente due negozi a Napoli perché alla fine è diviso in due piani separati negozio a Roma tre negozi a Milano a Londra un negozio tutti monomarca tutti monomarca e due a Tokyo e poi siamo distribuiti in piccole botteghe nel mondo un po' in tutto il mondo anche in alcuni department store devo dire ad esempio siamo da Bird of Goodman in America a New York che è una cosa è un'emozione incredibile ma dopo l'Italia qual è il paese dopo l'Italia in Giappone che indossa il Giappone perché vi racconto la mentalità giapponese è una mentalità utopica ideale mi ricordo quando ci fu lo tsunami e il terremoto qualche anno fa in Giappone lo stato giapponese disse a tutti i proprietari di supermercati che dovevano aprire le porte ai propri concittadini per far prendere gratuitamente la spesa e poi tornare a casa giustamente per vivere sopravvivere allora intervistarono questi proprietari di questi supermercati e l'intervistatore diceva per voi una sciagura siete stati praticamente svaliggiati senza guadagnare loro hanno detto no per noi una manna dal cielo perché quando le famiglie si riprenderanno loro ritorneranno e pagheranno quello che hanno preso cosa che in Italia è veramente utopica e i giapponesi essendo così fiscali essendo così precisi organizzati sono totalmente affascinati dall'estro italiano dalla dolce vita dalla bella vita appunto dall'eccellenza italiana esatto dall'andare in cabrio in costiera amalfitana cucinare uno spaghetto al pomodoro con un bicchiere di vino loro sono innamorati dell'Italia e quindi quando viene portato un prodotto che rappresenta così il made in Italy loro impazziscono bello che progetti hai allora anche al di fuori di Marinella per prima di salutarci allora diciamo cosa hai in mente io poi spoiler qualcosa stavo pensando poi mi sono venute anche in mente alcune alcuni aneddoti alcune cose interessanti vai 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 allora assolutamente allora come progetti io sempre nella fase iniziale quando chiaramente volevo dimostrare che avevo una testa pensante che potevo fare di più anche in azienda ho cercato di fare di costruire qualcosa anche da zero insieme a degli amici qualche anno fa abbiamo creato un'azienda che tratta prodotti agroalimentari che ormai a 5-6 anni sta andando molto bene prodotti agroalimentari di nicchia come il pomodoro del piennolo che è tipico delle falde del vesuvio il datterino il corbarino dillo eh come si chiama si chiama Terra Sofia si chiama Terra Sofia ha 6 anni e sta crescendo molto dall'altro lato anche degli investimenti immobiliari ho cercato di sfruttare questo boom di turismo in Italia quindi mettendo affitti brevi eccetera eccetera queste sono le mie attività che chiaramente ho delegato perché poi è anche importante saper delegare e non fare tutto in prima persona quindi queste sono diciamo le attività mi venivano in mente un po' di aneddoti ad esempio quando nel 2017 se non sbaglio ci fu al MoMA di New York una mostra che si chiamava Fashion is no is fashion modern is fashion modern esatto ho studiato abbiamo studiato bravissimo bravissimo e praticamente questa mostra rappresentava era una mostra di oggetti 111 oggetti più iconici del secolo cioè se potessimo racchiudere il secolo con 111 oggetti quale sarebbero questi 111 oggetti c'era le Nike che si allacciano da sole di ritorno al futuro c'era la maglietta supreme la maglietta bianca supreme che è tornata poi tantissimo lo Chanel numero 5 originale di Marilyn Monroe che utilizzava quando andava a dormire come lei diceva nuda con lo Chanel solo vestita di due gocce di Chanel numero 5 e la cravatta vanile quindi tra i vari oggetti quindi questa è stata un'emozione incredibile incredibile va bene ti ringraziamo grazie continua a portare in alto il nome anzi il vostro cognome davvero rappresentante del made in Italy grazie grazie per tutto quello che hai raccontato ai nostri microfoni e noi ci risentiamo e ci rivediamo alla prossima puntata grazie ancora ad Alessandro Marinella ciao grazie bocca al lupo per tutto grazie ciao grazie per il lupo grazie per il lupo